Buongiorno e ben ritrovati ad un altro incontro, questa volta entriamo nell'anima della Fondazione Mantovani-Castorina e abbiamo qui con noi Davide Vacher che lavora ed è coinvolto a 360 gradi nella Fondazione, papà di un ragazzo con disabilità, ci vuoi raccontare la tua storia? Volentieri, buongiorno a tutti, sono Davide Vacher, mio figlio si chiama Emanuele, sono entrato in Fondazione come spesso accade, accompagnato da un caro amico di famiglia che me ne ha parlato e sin da subito ho sentito che quella che era stata la mia esperienza non solo poteva aiutare me in un progetto come quello che inizialmente era quello di Fondazione Mantovani-Castorina che era di garantire un progetto di residenzialità per i portatori di disabilità ma anche per dare agli altri, tutti quelli che avevano vissuto, che avrebbero potuto vivere un'esperienza come la mia, un qualcosa di personale, di vissuto e quindi un aiuto e quindi mi ha subito appassionato l'idea di poter entrare a far parte. Per quello che posso dire di Emanuele, la mia esperienza di famiglia che si è trovata ad affrontare la disabilità è stata un'esperienza abbastanza scioccante, dura come credo lo sia per tutti quelli che si trovano ad affrontare queste cose e da un punto di vista così quello che mi sento di dire è che tutte le tranquillità, le certezze, i sogni che ti sei costruito dall'oggi al domani devono essere riparametrati, reinterpretati, ricostruiti e tu avresti voglia di arrivarci subito a ritrovare un equilibrio, ma invece sono situazioni che richiedono molta pazienza, delicatezza, tempo soprattutto. Oggi tuo figlio è grande, ha 24 anni, ci racconti qualcosa di lui? Ma guarda, è difficile raccontare qualcosa in poche parole, anche perché Emanuele meriterebbe forse una settimana per poterlo raccontare, però quello che mi sento di dire è che dopo due mesi di terapia intensiva dalla quale è uscito con un quadro sia clinico che personale molto compromesso perché si parlava di un'attività paresispastica con gravissime criticità a livello emotivo, relazionale, uditivo, visivo, eccetera, oggi devo dire che, anche se quasi non me ne sono accorto perché poi il tempo vola, ma mi sembra ieri, lui ha fatto dei progressi enormi, cioè oggi è in grado, seppur con il camminatore che abbiamo riscoperto dopo tanti anni, lo usava da piccolo, poi l'aveva abbandonato, è in grado di spostarsi autonomamente, di mangiare autonomamente, di esprimersi anche seppur con concetti a volte molto elementari e che richiamano le fiabe, le canzoni dello zecchino che a lui piace molto ascoltare ancora per tranquillizzarsi, però dietro questo ti accorgi che c'è molto di più, c'è tutto il suo vissuto che lui a fatica riesce a tirare fuori e non è facile per tutti capire quello che lui sta cercando di comunicare quando comunica, perché sembra sempre molto felice, molto gioioso, a volte è anche irritato e scontroso, ma non è capace di dare una, non so come dire, una spiegazione del perché, lui è così molto istintivo, come immagino tante persone che vivano un problema di criticità e disabilità. Immagino sia stato difficile il passaggio dall'essere bambino disabile a ritrovarsi un adulto disabile. Sì, sicuramente sì, come ti dicevo tante cose, tante esigenze, tante situazioni cambiano col tempo e tu sei sempre a rincorrerle, perché quando è nato ci siamo ritrovati alla ricerca di soluzioni, aiuti da parte delle strutture mediche, delle istituzioni, però ti sembra quasi che non ci arrivi mai, che queste risposte non ci sono, devi fare da solo e ti diceva di rincorreremo linea vento alla fine, perché non hai riferimenti, quindi secondo me un'esperienza come quello che ho vissuto può dare a chi si avvicina a questo tipo di criticità di realtà la possibilità di aiutarlo, quantomeno a fargli vedere che senza aiuti io sono arrivato qua, quindi con degli aiuti si può fare molto molto di più. Anche a livello psicologico il centro famiglie più nasce soprattutto per dare a tutti la possibilità di avere un aiuto. Noi abbiamo vissuto l'esperienza con Emanuele che nei primi anni e non c'era nessuna diagnosi di autismo ai tempi, nonostante tutti i controlli che avessimo fatto, aveva bisogno e l'ha avuto per anni di un supporto psicologico importante e quello è rimasto tutto a nostro carico da un punto di vista anche economico, se ci fosse stato un aiuto non solo per lui, perché poi tu per tuo figlio fai di tutto di più, ma tu come persona non ti consideri, è importante lui, spesso avere un aiuto anche noi avrebbe aiutato tutti, anche perché spesso ci si trova in situazioni come è stata la mia, dove una famiglia pur dovendo andare avanti poi si rompe al suo interno e quindi vengono a crearsi ulteriori problemi oltre a quelli di equilibri che già non ci sono, bisogna ristabilirne altri. Per cui come si può aiutare una famiglia che scopre un figlio con una disabilità? Tendendogli la mano, tendendogli la mano e facendola sentire comunque non una famiglia diversa dalle altre, ma una famiglia come le altre, solo con la fortuna, se così si può definire, di aver vissuto una situazione che ti consente, se non ci sprofondi prima, e quindi il Centro Famiglie Più ha soprattutto questo scopo di darti questo tipo di aiuto, a fare di una criticità un'opportunità, un'opportunità di crescita, di valori e di solidarietà con gli altri, soprattutto nel periodo di Covid questo è molto importante. Per questo motivo tu sei entrato a far parte della fondazione, ti sei dedicato alla fondazione? La fondazione, ti ripeto, era nata all'inizio con un progetto di residenzialità, col quale poi ci siamo scontrati, varie esperienze, varie cose e andando avanti con gli anni, questa è stata un'altra delle cose che per noi erano importanti, nella quale anche gli altri soci della fondazione hanno creduto e abbiamo creato questa situazione. Il Centro Famiglie Più, che cos'ha rispetto alle altre associazioni che ci sono anche a livello nazionale sul territorio minolese, che cos'ha in più dal tuo punto di vista? Il mio punto di vista di genitore ha proprio questa doppia valenza di supporto a tutto quello che è l'emotività e il caos mentale che qualcuno sicuramente si trova a dover affrontare con la possibilità di trovare non solo il supporto psicologico, ma anche un supporto a 360 gradi su tutte le possibilità che si possono mettere in pista per avere un aiuto concreto, quindi conoscere quali sono le situazioni possibili, le soluzioni da un punto di vista della mobilità, le soluzioni da un punto di vista di un aiuto di tipo fiscale, amministrativo, assicurativo, legale. Tante piccole sfaccettature che però messe insieme ti danno quella sostanza che difficilmente in tante realtà che vedo sono date tutte insieme. Ultimissima domanda, come avete vissuto la pandemia? Come avete spiegato il vostro figlio? Come l'abbiamo spiegato Emanuele? Ma non è stato facile perché poi lui era abituato tutti i giorni a incontrare i suoi amici al centro di urno dove adesso va e questo gli aveva dato molta molta più tranquillità nel suo quotidiano, di avere un impegno, di avere gli amici, di avere delle relazioni e togliergliele così da un giorno all'altro, cercando di spiegargli sì che c'era il virus, ma per lui non era di facile percezione come credo sia stato difficile per tanti bambini e per tanti ragazzi doverlo accettare e comprendere, ha creato in lui all'inizio un rigetto, poi momenti a volte di noia, momenti di rabbia, quando abbiamo cominciato a riportarlo sì gli è piaciuto però poi non era più abituato, quindi ristabilire di nuovo tutti i ritmi della quotidianità del mangiare insieme, non mangiare insieme, è stato anche il fatto di non poterci vedere regolarmente come ci vedevamo prima, anche quello per lui è stato un po' un problema grosso. Io Davide ti ringrazio perché temo che il tempo sia scaduto, è stato un piacere grazie a voi di avermi dato questa occasione di conoscere un papà che vive questa disabilità in prima persona e poi è coinvolto a 360 gradi nella fondazione Mantovani Castorina. Ricordo i numeri dedicati che sono 349 0737 787 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì anche al pomeriggio dalle 14 alle 17, oppure si può scrivere una mail a famiglie più senza l'accento chiocciola fmc-ollus.org. Ricordo che il servizio è completamente gratuito, grazie. Grazie a voi.